E intanto questi sono i Depeche Mode con I Feel Loved da Exciter 10 maggio 2001 per Mute. Siamo nella seconda parte di almeno due pagine al giorno e vi avevo anticipato in realtà che avremmo parlato di un appuntamento importante questa sera, un anno fa ci ha lasciato Gianni Minà e chi meglio dell'ospite in attesa che sono davvero molto felice di rincontrare per farci raccontare l'appuntamento di questa sera. Intanto grazie a Giuseppe De Marzo in collegamento con noi. Ciao Giuseppe, buongiorno, benvenuto. Ciao Francesco, grazie a voi e a chi ci ascolta da casa. Intanto allora lo dicevamo poco fa, voglio soltanto un attimo inquadrare Giuseppe De Marzo, economista, giornalista, scrittore, storico, responsabile delle politiche sociali di Libera, coordinatore della rete dei numeri pari e di cui parliamo spesso anche da questi microfoni, della loro attività quotidiana, insomma anche rispetto a chi fa fatica in questo paese. Ma intanto però oggi vogliamo tornare a raccontare un grande, un grandissimo giornalista che ci ha lasciato un anno fa, di cui Giuseppe De Marzo era innanzitutto, insomma spero di non dire cose sbagliate, era grande amico, collega, grande maestro Gianni Minà e questa sera cosa succede alla Casa del Cinema di Roma? Insomma si inaugura un archivio digitale di materiali anche inediti di Gianni Minà e tra i partecipanti ci sarà proprio Giuseppe De Marzo. Intanto Giuseppe ovviamente anche a beneficio di chi non ha conosciuto, tra i giovanissimi, Gianni Minà, insomma chi non lo conosce, di chi stiamo parlando? Giuseppe. Parliamo del più grande giornalista del nostro paese, indubbiamente parliamo di uno dei più grandi giornalisti che ci sia mai stati al mondo, non per la sua capacità di essere di parte, ma per la sua capacità di raccontare la verità, anche se scomoda, anche se questo avrebbe turbato la sua vita, anche se questo lo avrebbe sposto a rischi, anche se questo danneggiava gli interessi costituiti. Parliamo di una persona, quindi non solo di un grande giornalista, che è stato tra i più interessati a raccontare i nostri movimenti, come sai Francesco ne hai fatto parte anche tu, noi siamo figli del movimento alter mondialista, quando le cosmovisioni e l'anisticismo dei popoli del sud del mondo ha incontrato le nostre lotte sociali per i diritti, per la giustizia sociale qui, noi siamo cambiati, abbiamo raccontato altro, abbiamo visto con altri occhi, ecco, se tu pensi che oggi alla Casa del Cinema verrà presentato materiale inedito del periodo di Portoallegre, quindi dei primi forum sociali mondiali, ecco, la notizia è già nella notizia, e cioè Gianni è stato il primo a raccontare, io sono anche un po' impaurito, perché vedrò immagini mie che non sapevo di avere, di 25 anni fa, di Gianni Milà, che mi intervista sotto il palco a Portoallegre, e noi come tanti sognatori, come poeti sociali, un po' come ci definisce Papa Francesco, raccontavamo di un altro mondo possibile. Ecco, Gianni non solo ha dato voce agli ultimi, ma per la verità dopo 24 anni possiamo fare un punto, e cioè ha dato voce all'unica speranza che aveva l'umanità di contrastare con l'assio climatico guerra e diseguaglianze, ha dato voce e legittimità ai più grandi intellettuali oggi che abbiamo nel mondo, perché tra quegli attivisti c'erano persone come Vandana Shiva, Meda Patkar, Blanca Ciancoso, Leonardo Boff, quindi ha contribuito a sistematizzare una speranza per tutti e tutte, e attenzione, parliamo di un gigante che con il suo lavoro ha contribuito a fare la storia, per questo la figura di Gianni è speciale, particolare, perché attraverso il giornalismo, facendolo con questo amore, con l'entrega totale, come si dice in America Latina, ha contribuito e contribuisce ancora a fare la storia. Ecco Giuseppe, mi fa un effetto già questo, nel senso che si tornerà questa sera a parlare anche di un grande, e l'hai appena detto molto meglio di me, insomma tu poco fa, un grande momento di speranza per un mondo possibile che era il forum sociale mondiale, tra l'altro aggiungo un altro elemento rispetto al lavoro quotidiano, ma anche di scrittura di Giuseppe De Marzo, il 2020 è uscito uno dell'ultimo libro di Giuseppe De Marzo, Radical Shock, diritto alla salute, collasso climatico e biodiversità per Castelvecchi, questa è la copertina per chi ci guarda anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, ma anche su rbe.it in streaming, e tu dici in questo libro, e lo dici da sempre, insomma, nel tuo lavoro quotidiano, che in realtà quel movimento già, come dire, raccontava di un allarme climatico, di una minaccia alla biodiversità, di una minaccia alla salute, e quindi insomma ancora di più, se vogliamo, no? Quel lavoro, il tuo lavoro quotidiano con i movimenti che rappresenti, ma anche con il lavoro di Gianni Minà, quel lavoro viene davvero da lontano, no Giuseppe? Ma sono trent'anni, io mi ricordo Gianni quando andò a intervistare Marcos, per chi non sa chi è Marcos, nel 1994 entra in vigore nel mondo il primo gennaio, uno dei più grandi accordi commerciali che avrebbe contribuito a distruggere biodiversità, diritti, il NAFTA, c'è un accordo tra Stati Uniti, Canada e Messico, nella stessa giornata, i poeti sociali, indigeni, Maya, Toccolabalzo, Zilla, insorgono dando vita all'esercito zapatista di liberazione nazionale, capeggiato da indigeni, dagli ultimi della terra che si opponevano, pensate che meraviglia, senza nemmeno sparare, quindi usavano un'altra narrazione, parlavano di Quarta Guerra Mondiale già in corso, ecco, Gianni era nella selva la candola a intervistare Marcos, perché quella curiosità oggi ci torna utile, perché nel 1994 le comunità indigene ci avevano avvisato che questo modello economico è insostenibile in termini sociali e ambientali. Dopo 30 anni, per esempio, il nostro paese conosce la crisi più grave nella storia della Repubblica in termini di povertà, in termini di ingiustizie ambientali, la metà di noi non va più a votare, siamo minacciati dalle guerre e dal collasso climatico, ma secondo voi chi ci ascolta da casa pensate che sia normale e pensate che quel poco di diritti che ci è rimasto sono garantiti, che la democrazia non rischiamo di portarcela via o che ce la portino via se non partecipiamo e se non costruiamo altre relazioni tra noi. Ecco, quei mondi, quei mondi 30 anni fa, sono l'unico mondo a cui possiamo guardare di speranza, quindi sono quella geografia della speranza, quindi rappresentano in termini di contenuti, di proposta, di cultura, di modello o altro, l'unica strada percorribile, con buona pace, di chi pensa di sfidare patriarcato, colonialismo e capitalismo con una spruzzata di green economy o di socialdemocrazia o di antagonismo. Abbiamo la necessità di un nuovo paradigma di civilizzazione che parte dall'ecologismo dei poveri. Minà è stato il cantore di quella che una volta era considerato un'utopia e che oggi è l'unica strada possibile. E allora, questo pomeriggio si diceva alle 18.30 alla Casa del Cinema di Roma questa iniziativa, per ricordare Gianni, ma anche leggo che avviene in collaborazione con la Fondazione Gianni Minà ETS che dopo la proiezione presenta questa nuova piattaforma dedicata al prezioso archivio del grande giornalista. Ci saranno anche Loredana Macchietti Minà, presidente della Fondazione, Felice Laudadio, critico cinematografico, ci sarai tu Giuseppe Cecorrado Trione, vicepresidente di Archivissima, Francesca Emilia Minà, digital editor e visual researcher. Ma permettimi, potresti anche, come dire, non rispondermi ovviamente, ma tu hai avuto una lunga frequentazione con Gianni Minà, diciamo una frequentazione innanzitutto affettiva, se posso permettermi, no? Ma ci sono degli elementi, diciamo, che tu vorresti anche, se avessi voglia a condividere in questi pochi minuti che ci separano ancora, un tuo ricordo, diciamo, particolare. Ci sono dei momenti che tu porti particolarmente con te rispetto, come dire, a questa, diciamo, relazione che hai avuto di amicizia e di collaborazione con Gianni Minà? Ma ce ne sono tanti perché comprendete come personalmente li devo molto, dal 98 che ho avuto la fortuna e il privilegio di collaborare con Gianni, perché ci diede voce sulle campagne internazionali, su quello che nessuno aveva il coraggio di raccontare, ecco. Ma, e quindi ci sono dei ricordi anche intimi che faccio fatica con le immagini a condividere, ma è bello, invece, socializzare qualcosa che è giusto che tutti e tutte sappiano. Una cosa che mi colpì la faccia e le espressioni di Gianni sei anni fa durante il primo incontro dei movimenti popolari con il Papa, e quindi la sua commozione e il suo stupore di ritrovarsi invitato, quindi ospite d'onore, d'eccezione, a un incontro storico che per certi versi lui aveva contribuito a costruire dando voce a quelle persone che erano tutte là. Ci eravamo ritrovati da Evo Morales a Pepe Mugica, ai grandi leader che in questi anni si sono abbattuti per i diritti della terra, per i diritti dei popoli indigeni, per la giustizia sociale, ecco. La faccia di Gianni io me la vorrei trasferire nel momento in cui i suoi occhi curiosi, straordinari. Edoardo Galeano diceva, è il nostro Gianni, no? Perché è il nostro Gianni, cioè, tu te l'aspetti che spunti lì. Ed era esattamente nel suo brodo naturale, cioè, in quella sala aveva riunito le persone che negli ultimi trent'anni aveva raccontato, aveva messo insieme quella roba. Io, devo dirti a tanti di noi, vedere Gianni lì, che è stato un po' per tanti di noi punto di riferimento, maestro, ma anche unica speranza alle volte di poter avere voce, di protestare, di poter vedere raccontata la tua storia. Vederlo lì mi ha fatto ricordare che alle volte, appunto, come si diceva prima, i ruoli troppo definiti non si addicono alle persone come Gianni, non era solo un giornalista. Ecco, questo ricordo vi voglio condividere. La faccia, la contentezza, è una foto meravigliosa che abbiamo insieme con Ramonè, con padre Zanotelli, con Loredana, la straordinaria compagna di una vita di Gianni, che come tu hai ricordato dirige la fondazione Gianni Minà. Ecco, questo è il ricordo che voglio condividere, perché è un ricordo di speranza, Francesco. La partita non è affatto finita. È un precursore l'ha aperta e l'ha raccontata e oggi sta a noi giocarla. È meraviglioso anche poi come sentirti nominare, insomma, dei protagonisti, diciamo, che mi ricordano anche, come dire, un tempo di grande fervore, devo dire. Evidentemente sono benzina che ci serve adesso, diciamo, per provare a guardare, diciamo, anche davanti a noi, perché, insomma, ovviamente siamo quasi in chiusura, Giuseppe, però, insomma, ti ruberei ancora un minuto rispetto al presente, perché il presente, se leggiamo, come dire, in rete, ma anche i giornali, ma anche seguiamo sui mass media, quello che succede, l'unica parola e l'unico argomento declinato in varie salse è quello del conflitto e della guerra, diciamo, no? Insomma, mi servirebbe anche una tua parola, diciamo, di prospettiva e di futura rispetto ad una parola che viene usata sempre meno, che è la pace, no? Guarda, le reti sociali, le cooperative, i movimenti, i luoghi delle donne, almeno quelli che ho il privilegio di rappresentare, le 700 realtà della rete dei numeri pari, vi possiamo garantire forte e chiaro che non vogliamo morire di tumore, né di povertà, né di guerra, e quindi siamo consapevoli che all'interno di questo modello economico, relazionale, culturale e istituzionale non ci può essere futuro per noi, dobbiamo partecipare e attivarci, la pace è il valore più alto e per costruire la pace ci vuole un'economia di pace e la pace viene garantita dai diritti, un paese che ha 5 milioni e 700 mila persone in povertà assoluta e che ha un presidente del Consiglio che non gli ne frega nulla di quello che sta succedendo, mentre rischiamo una guerra mondiale, il nostro ruolo è penoso, mi sembra evidente che abbiamo bisogno della memoria di persone come Gianni, abbiamo bisogno di continuare il lavoro che stiamo facendo, quello che possiamo dirti Francesco, ma lo sai, è che nonostante la narrazione è quella che sembra che sia un paese che non cambia nulla, che non c'è speranza, non è vero. C'è da Marsala al Friuli una geografia della speranza fatta di donne e uomini straordinari che tutti i giorni sentono l'obbligo della solidarietà come ci impone la Costituzione e che sanno perfettamente che la pace e la giustizia sociale sono i valori più alti della Repubblica. Ecco, noi ci batteremo per questo, ma non te lo dico con retorica, noi siamo convinti che vinceremo perché non si può con quello che ci stanno proponendo andare avanti, e quindi sarà naturale ritrovarci a partire dalla nostra condizione e dai nostri bisogni. E allora, insomma, io direi che con queste parole possiamo davvero salutarci, ma soltanto per il momento, perché ovviamente, insomma, tu lo sai, insomma, la mia trasmissione ha le porte girevoli e tu, la tua parola, il tuo pensiero, la tua riflessione, il tuo lavoro, qui, insomma, avranno sempre grande spazio. Intanto, Giuseppe De Marzo, grazie per essere stato ad almeno due pagine al giorno, grazie ancora e allora buon lavoro, buon incontro per questa sera e buon lavoro per tutto quello che stai facendo insieme alla Rete dei Numeri Pari, a Libera, insomma, in questi anni, ma anche in questi giorni, in questo tempo. Grazie ancora, Giuseppe. Grazie a te, Francesco, e grazie alla vostra radio per averci dato voce e ascolto. Grazie di cuore. È sempre un piacere, intanto, prima della conclusione di questa trasmissione. Siamo ancora alla musica, questo è Nick Cave.